Salve, mi chiamo Vittoria Belliccio, ho 14 anni e frequento il primo anno del liceo scienze umane all'istituto Santa Maria. Ho la passione del canto da quando sono piccolina, perché mi è sempre piaciuto, mi chiudevo in camera con il mio microfono finto a cantare, mia mamma mi sentiva e mi ha sempre spronata a continuare questa mia passione e a coltivarla. I miei genitori sono molto entusiasti di questa scuola, soprattutto perché siamo seguiti molto bene, sia nella parte scolastica che quella un po' più formativa sulla parte del canto, e da subito sono stati contenti, già da quando abbiamo fatto la prova a metà della terza media a gennaio. La prima volta che sono salita sul passico scenico è stata un'emozione molto grande, soprattutto perché non mi era capitato nella vita e è stato molto bello poter cantare e sentirmi proprio una vera cantante che sta facendo un concerto. Fin da piccola mi è sempre piaciuto ascoltare le persone, dare dei consigli e soprattutto appoggiarle e trovo che lo scienze umane sia una scuola perfetta per poi intraprendere un percorso di psicologia all'università. La scuola ci ha offerto fin da subito un servizio di scuola bus che ci permette alle persone più lontane da qui di arrivare in tutta comodità e abbiamo trovato all'inizio un punto di raccolta dove ritrovarci e poi prendere il pulmino ed è stato funzionale fin da subito. Abbiamo iniziato a fare delle gite didattiche da subito, diciamo dal mese di ottobre e ce ne sono in programma tante altre, sia di campi scuola che comunque gite di un giorno solo. Tutti siamo molto entusiasti perché è molto interessante dove ci portano, è sempre molto formativo. Dai siti della scuola, prima di venire ho visto tutti gli spettacoli che sono stati fatti a fine anno ed è anche questo che mi ha spronato a scegliere la scuola perché non vedo l'ora di esibirmi anch'io sul palco come se fosse proprio un vero spettacolo. Grazie a tutti.